e bella a tutti ragazzi, qua è Matthew e oggi siamo in un'altra Buri de Battle in compagnia di Gamer GTV Ciao ciao di italiano Mato Gaming Ciao Una bici, madonna No Forca se Oddio Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda No, mi sto laggando Che felicità E come si è contenta Ti vi do la tua felicità Tant'inventa 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 Oddio a fareirati io sono anche una nuova io l'ho già finita la bici come l'hai già finita ovviamente no aspetta gli sto facendo anche il panale l'ho già finita la bici la mia è abbastanza brutta la mia è abbastanza carina si sembra una nave di star wars questa però è bello io ho finito perfetta bella 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 bella